Stai facendo una frittata d'uova con le zucchine. Frittare la d'uova con le zucchine, una frittata. E te la faccio con le zucchine. Favorito che avevo consolato. Siete lì, buongiorno. Sabato, lo sapete a me che sto facendo con le zucchine. Cosa stiamo facendo con le zucchine? Ti voglio fare una frittata d'uova con le zucchine. Una frittata d'uova con le zucchine. Stai bene a frittare la d'uova con le zucchine. E ti ho messo con le zucchine. Vediamo, vediamo. E poi metto la spiaggia. Me la porto sulla spiaggia domani? Sì. Sì, perché noi stiamo facendo una spiaggia. Una panina che ha frittata. La frittata, la frittata di melanzana, la frittata di zucchine, la frittata di maccherò. E questa è la mangiata di noi quando c'è una spiaggia. Quindi ora stiamo tagliando le zucchine a pezzettini piccoli. Siete vedi se le tagliamo tutte e ci spostiamo ai fornelli? Sì, sì, andiamo a friggere. Se non potremmo ne resta un solo. Mi invidiano gli altri. Sì. Siete vedi se mettiamo l'olio per friggere. Per riscaldare in padella. Aspettiamo che l'olio si riscatta. Mettiamo le zucchine. Le zucchine a friggere. Bene. Mettiamo di friggere già le zucchine. Io preparo già le uova. Proviamo le uova. Se si scatta, ora puoi mettere le uova. Se si scatta, nell'olio delle zucchine. L'olio delle zucchine. Ecco qua, sarà dopo. Adesso andiamo a mettere le uova. Quante uova mettiamo? Io ne metto tre. Vabbè, dipende quanto... Due a te o una a me. Dipende quanto deve essere grande la frittata. Eh sì. Sale. Sale. Formaggio. Parmigiano. Parmigiano. Parmigiano leggiano. Pepe. Questo è andato a mancare. Non può mancare il filoche con le uova. E andiamo a sbattere. Ora che si aggiunge i zucchini, ci metto le uova. Quindi aggiungiamo le zucchine. Mettiamo le uova e poi aggiungiamo di nuovo le zucchine. E mettiamo di nuovo le zucchine. Giusto? Sì. Sto imbarando una cosa. Sì. Sto imbarando. Un giorno la tua ragazza non ha bisogno di nessuno. Chiediamo due cannaggi. E già cucinati? Eh sì. Togliamo i zucchini. Facciamo le zucchine dalla padella che sono pronte. E adesso? Mettiamo l'uovo. Vediamo, vediamo. Ecco qua. Uova in padella. Mettiamo le zucchine. Le zucchine sulle uova. Sì. Ecco qua. Le zucchine messe sulle uova. Si stanno cuocendo nell'olio. Sì. Le andiamo a chiudere così. Eh sì. Ma può filoche? O filoche. O filoche. O filoche. Filoche di uova. O filoche di uova. O filoche di uova. Napolitanamente. Ecco. Con le zucchine questa volta. Non la frittata. O filoche. O filoche. O filoche. Vedi? Bellissima. Come giriamo. Bella. Ecco qua. Ecco qua. Ecco l'acido consulato. Ecco la verità. Bellissima. Guardate che colore che sta prendendo. Ecco qua. Un bel panino. E lo mettiamo in. Adesso lo mettiamo nel panino. Si. Fattelo vedere di nuovo. Ecco qua. Guarda in cosa c'è. Che spettacolo. Che spettacolo Zia Teresa. Che spettacolo. Adesso lo mettiamo in. E lo faccio mangiare. Guarda. E' il zucchino. Guarda. Questo potete portare le spiagge. Questo ci portiamo qua. Alla spiagge. E questo potete mangiare qua. Andiamo all'assaggio. Il zucchino. Finta la doveva con le zucchine, non filoso. E te la ci mi sono due panini. Favorito? Capo consolato.